Direzione amiale? Così, figa! Davvero? Non vedo un cazzo Così dov'è? Si salta addosso, mi tocca qui eh A terra qui eh Eh? Si è saltato per saltar con il giusto valore Ma si è saltato col GES che figa Cosa? Spero non vedo un sennò Ma poi bella Bebe-be-be-be-be-be Beba-be-be-be-be Speriamo Ma che si fa una pulitina? Eh? Andiamo sulla in cima, eh? No, no la in cima là. Eh, eh. No, bello eh. Eh ma poi a girare con le motorone anche. Vieni più di là, rimanco la mia. Poi puoi fare questi piani lì che tu vai e pian pianino vai lì giù. Ma che ti salta davanti? C'è corde qui. Non, 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 non. No. Andiamo là. Sì. Cerchiamo un salto bello che lo facciamo fare prima lui così, tipo là. E va davvero te. Ma tu lo fai su anche te. No. No. È in piedi, eh? F*** se è in piedi. Romani non siamo andati su. Non sembra ma qui, eh? È un piedi. È un piedi. È un piedi. È per voi che è giù. Allora. 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 Noi! 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 C'è il filo! Un piede, a? Sì, eh! Sì! Pare! C'è il filo! C'è un monte! C'è un monte! C'è il soltello? C'è il lumberjack? C'è un monte! C'è un monte di sensual di! C'è un monte diनbe! C'è un monte di not往ma Fo ! C'è un monte diappare! En Vegoty, aшая un tiwine, vaga la mano! Grazie a tutti. Tutto a posto? Hai difeso? Sì! Vai! Ho fatto una ripresa. Sì. 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 Sì.